questo è l'ultimo corso su cura 15.4 ho analizzato veramente a fondo tutti i parametri e li abbiamo visti praticamente tutti abbiamo lasciato fuori il raffreddamento che proprio quest'ultimo corso spiegherò per poi lasciarvi due o tre spunti tu sul raffreddamento puoi andare e intervenire modificando la velocità delle ventole se le tue ventole al 100% non raffreddano la testina e quindi riescono solo a raffreddare il PLA tienile sempre al 100% se stampi PLA ovviamente quando entri in contatto con altri materiali e provi a stampare altri materiali valuta sempre che sicuramente ci sarà da scendere ci sarà da scendere perché rischiate che gli strati non aderiscono l'uno con l'altro e alcune volte raffredda troppo il condotto ci sono delle stampanti che ho usato mi hanno mandato un estrusore nuovo e sull'estrusore montavano una ventola più forte lavorando al 100% l'ugello si raffreddava la macchina leggeva una temperatura più bassa perché proprio l'ugello si raffreddava di conseguenza dovevo magari metterle al 50% o 60 o 40 dipende dalla ventola questo problema potrebbe capitare anche a voi spero che non capiti nel senso spero che i costruttori di stampanti impostino il 100% come temperatura che non raffredda la testina voi poi potete modificare i parametri e poi potete anche abilitarlo e disabilitarlo in caso non serva per esempio io quando stampo degli oggetti che non hanno inclinazioni non hanno né supporti né inclinazioni ma sono proprio solo estrusi posso anche disabilitarlo o posso per esempio togliere il convogliatore che ho sotto la stampante in alcuni casi devo stampare proprio senza convogliatore e con delle ventole molto ridotte per esempio alcuni pet questi circa dieci corsi che ho fatto abbiamo visto tutti i parametri che possiamo impostare per la stampa 3d solo questi vi bastano per ottenere delle ottime stampe io consiglio di guardarli una volta e di riguardarli applicando le cose che dico ovvero quando a voi durante la generazione del gcode vi insorge un problema andate a vedere il corso specifico magari che può essere per il supporto o per il raffreddamento o per le velocità proprio per risolvere in modo rapido il problema che hai se invece vuoi farti un'esperienza generale sul come affrontare i problemi che sorgeranno guardati un po' tutti i video che ho fatto e soprattutto una playlist che si chiama assistenza perché ci sono dentro tutti quei video ma tutti quelli che ho fatto in modo che tu capisca che problemi abbiamo già avuto dopo questo video mi prendo due settimane per organizzare tutto il lavoro che poi farò questa stagione mi piacerebbe e cosa che farò mettere molti contenuti su come fare ad usare le stampanti 3d in particolare su divise per marca è importante per me che le case che costruiscono stampanti formino e comincino a formare le persone sulla generazione dei g code e sulla manutenzione ordinaria delle stampanti 3d condividi quest'ultimo video a qualche tuo amico proprio per fargli capire che dentro il mio canale c'è veramente tutto quello che può servire per ottenere delle buone stampe alla prossima grazie a tutti